Buongiorno e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento mattutino con la Rassegna Stampa. Vediamo quest'oggi, martedì 10 settembre 2024, cosa ci offrono le prime pagine dei principali quotidiani regionali, nazionali e ovviamente diamo uno sguardo anche a quelli sportivi. Allora iniziamo subito il nostro giro sui quotidiani regionali partendo dal giornale La Sicilia. In primo piano sicuramente tanta politica, il piano Draghi scuote l'Europa, competitività, si cambi o sarà una lenta agonia? 170 misure proposte ma Ursula frena, intanto i verdi dicono no affitto. E poi vertice del centro-destra, la manovra tra flessibilità e prudenza, statale in pensione a 70 anni con tetto. E poi si parla ancora dello scandalo rosa, ecco Giulia alla cultura, Meloni lo catechizza, intanto la Corte dei Conti punta i fari sul caso San Giuliano. E poi c'è spazio anche per la crisi idrica, tra emergenze e prospettive piove e alla piana scoppia la festa, intanto a Siracusa sbarca il colosso Acea. E poi classe di merito, parte il nuovo anno scolastico in Sicilia, tra sfide sociali e lotta ai diplomifici. Turano intanto si rivolge ai ragazzi e dice puntate su voi stessi. Sullo sfondo le carenze strutturali, ancora irrisolte, 7 istituti su 10 senza certificato di agibilità. E poi ci spostiamo nella spalla del quotidiano, morta a 62 anni Maria Mattarella, figura rigorosa, era con il padre quando fu ammazzato nell'attentato. E poi l'inchiesta, rogo a Fontana Rossa, avviti soltanto per due persone, chi gestiva il box e dirigente dello scalo. E poi Santa Croce e Camerina, guerra tra poveri nelle serre ragusane, il tunisino ucciso per l'affaire plastica. E poi l'incidente, il mondo dell'arte piange frumenti, arrotato sull'A19 con l'auto in panne. Ci spostiamo adesso sul taglio superiore del giornale, c'è spazio ovviamente per lo sport, parliamo ancora di tennis. Il trionfo di Sinner, l'ennesimo capolavoro di un campione che ha già scritto la storia. E poi cronaca locale, Catania ruba un'auto e si schianta dopo un folle inseguimento. E sempre a Catania due omicidi di mafia, sei le condanne definitive. Ad Acireale invece si dimette il presidente della fondazione Carnevale, Nando Ardita, adesso attesa la nuova nomina. E poi a Giardini Naxos, pennello a mare, servono 5 milioni. Ci spostiamo adesso invece sul giornale di Sicilia. Anche in questo caso parliamo di politica, ma anche di economia. Regione, un altro tesoretto, si prospetta la quarta manovra economica del 2024. E con Roma si tratta già per il budget della prossima finanziaria. Fra maggiori entrate fiscali e somme non spese, disponibili 250 milioni di euro. All'Ars si prepara la bagarre, ma almeno 35 milioni serviranno per gli aumenti contrattuali ai dipendenti. E poi dossier di Draghi, cambi radicali per l'Unione Europea se vuole esistere ancora. E a proposito di politica, nipote del presidente della Repubblica, è morta Maria Mattarella, il segretario generale della Regione. E poi adesso parliamo ancora una volta di economia, perché la deroga sarà su base volontaria. Si tratta degli statali che potranno lavorare fino a 70 anni. E poi c'è spazio per la cronaca, vetrine spaccate pure al Politeama, colpo al golosone, due uomini in azione nella notte. Ma c'è il video, potrebbero essere presto identificati. E poi a Gela litiga in casa con la madre e la uccide, è fermato giovane figlio. E poi festa a Danisini, dopo 17 anni riapre l'asilo. Posti per 20 bambini. E poi, schianto sulla Gela licata, auto contro un tir perde la vita, un giovane 28enne originario di Vittoria. Ma c'è spazio anche per la TV, per lo spettacolo in TV, i gialli dei fratelli Corsaro, la nuova fiction su Canale 5, interamente girata a Palermo. Beppe Fiorello e Paolo Briguglia interpretano rispettivamente un giornalista di cronaca nera e un avvocato penalista. Sono loro i protagonisti della nuova serie, divisa in quattro puntate, in onda da domani, ed è tratta dai romanzi di Salvo Toscano. Adesso ci spostiamo nel taglio superiore del giornale. Ovviamente c'è spazio per lo sport, Nations League, Frattesi e Kenny in gol. L'Italia batte pure l'Islele e adesso è sola in vetta. E poi ovviamente si continua a parlare anche di politica del caso San Giuliano. L'ex ministro afferma, dimostrerò la mia innocenza. Intanto la Corte dei Conti apre l'indagine sulle trasferte di San Giuliano, farò anche sulle nomine e sugli appalti al G7. E adesso invece diamo un'occhiata alla Gazzetta del Sud Messina. Anche in questo caso c'è tanta politica in primo piano. Draghi avverte l'Europa, è tempo di cambiare o sarà una lenta agonia? Il report afferma serve un doppio piano Marshall. E poi Messina continua a spopolarsi. Emergono nuovi dati dal report dell'Ufficio Statistica del Comune. Sui dati del 2023 altri 2.000 abitanti in meno registrati. Intanto gli anziani crescono, sono sempre di più e migliorano i servizi. Non migliorano però quelli legati alla viabilità perché con la ripartenza della scuola si registrano già i primi disagi. E poi purtroppo c'è spazio anche per la guerra. Israele colpisce in Siria almeno 26 morti. Lira di Teheran, due guerre che sembrano essere senza uscita. Nel taglio superiore invece continuiamo a parlare della morte di Maria Mattarella, 62 anni. La figlia di Pier Santi e nipote di Sergio Mattarella, ricordiamo, era presente quando il padre fu ucciso in un attentato. E poi a Gela, tragedia familiare, uccide la madre a coltellate e poi si consegna alle forze dell'ordine. E poi parliamo di cronaca giudiziaria della maxinchiesta del 2022 sulla nuova mafia barcellonese. 13 richieste di condanna, intanto si riorganizza la cupola. E adesso diamo uno sguardo invece alla Repubblica Palermo per poi iniziare il nostro giro sui quotidiani nazionali. Istituti accorpati e calo di alunni, l'anno zero della scuola. Suona la campanella per 659 mila studenti, le lezioni riprendono fra i disagi, organici ancora incompleti, locali poco sicuri, collaboratori scolastici insufficienti. Insomma, questo l'allarme dei presidi, didattica a rischio, si spendano finalmente i soldi del PNRR. E poi c'è spazio anche per la cronaca e lo sport che in questo caso si fondano perché parliamo di Totò Schillaci che sta combattendo tra la vita e la morte. Il CEP trattiene il fiato e li siamo accanto nella partita più difficile. E adesso invece diamo uno sguardo alla Repubblica e quindi iniziamo il nostro giro sui quotidiani nazionali. L'Unione Europea rischia l'agonia. Il rapporto di Draghi che presenta le proposte per riformare l'intera Unione. Tre pilastri, innovazione, green e via il potere di veto. Per combattere, meglio competere con Cina e America, un piano da 800 miliardi l'anno. Il tedesco Lindner sul debito comune, non siamo d'accordo. Intanto, caso San Giuliano, stasera boccia a Mediaset, San Giuliano indagato sull'ipotesi peculato. E poi, nella spalla c'è spazio per la guerra in Ucraina, droni russi piovono per errore su due paesi Nato, arriva la risposta collettiva. E poi si parla anche di un appello che sta spopolando in Italia per vietare i social agli under 16. Intanto, però, arriva il nuovo iPhone con l'intelligenza artificiale. E poi c'è spazio per la sanità, che in questo caso si mischia con la cronaca, perché l'ospedale di Foggia è ormai alla deriva. E intanto iniziano a scappare i primi medici e i primi infermieri dopo le ultime aggressioni. E poi c'è spazio per lo sport, fenomeno Sinner, le mie notti insonni, prima di ritrovarmi. E adesso, invece, diamo uno sguardo al Corriere della Sera. Anche in questo caso parliamo di economia e politica. Il piano Draghi scossa all'Europa, l'ex premier cambiamenti radicali è una sfida esistenziale. La strategia su innovazione, transizione energetica e sicurezza. Servono investimenti aggiuntivi per 800 miliardi l'anno. Il no tedesco sul debito comune. Intanto Meloni ha la vertice sui conti, poche risorse, serve serietà. E poi la denuncia al Tribunale dei Ministri, San Giuliano, ora è indagato. I PM è l'accusa di peculato. E poi c'è spazio anche per il caso migranti, perché c'è uno scontro tra Roma e Berlino sui rimpatri. Intanto la Germania blinda le frontiere e controlli a tappeto. E poi nel taglio superiore c'è spazio anche per lo sport, perché l'Italia vince ancora. E prima nel girone sconfitto Israele 2 a 1. E adesso, invece, diamo un'occhiata alla stampa. Unione Europea, il piano Marshall di Draghi. Interventi per 800 miliardi. E avanti con chi ci sta, debito comune, no, di Germania e Olanda. Manovra a Giorgetti, ai leader, non ci sono tesoretti nascosti. Forza Italia, più risorse per pensione e lavoro. E questa la notizia in primo piano sulla stampa. E poi, ovviamente, nel taglio superiore c'è spazio anche per lo sport. Anche in questo caso l'Italia di Spalletti ora sa solo vincere. Inno di Israele, gli ultra voltano le spalle. E adesso, invece, diamo un'occhiata al giornale. Sferzata a Bruxelles, Draghi dà la sveglia all'Europa il rapporto dell'ex premier. Affinché l'Unione Europea sopravviva, servono il doppio del denaro del piano Marshall e cambiamenti radicali. Intanto manovra, vertice tra la Meloni e gli alleati, ecco a chi daremo i soldi. E poi, invece, diamo uno sguardo al fatto quotidiano. L'agenda stracciata, appena nata, bocciata da Ursula e Berlino. Piano Draghi già cestinato, tranne i soldi in nuove armi. 800 miliardi d'anno, questa è la proposta di Draghi, che vuole un debito comune indigeribile per i paesi del nord. Sì al nuovo modello di difesa più costoso e addio competitività. Ecco, questa è la notizia principale quest'oggi sul fatto quotidiano. Ovviamente, anche in questo caso, politica ed economia che si intrecciano, che non riguarda soltanto l'Italia, ma l'Unione Europea più in generale. E adesso, invece, diamo uno sguardo al messaggero. Siamo quasi giunti al termine del nostro giro sui quotidiani nazionali, per poi spostarci, ovviamente, su quelli sportivi. Quest'oggi in primo piano, sul messaggero, manovra i paletti della Meloni, ieri vertice con Salvini e Tajani, fate solo richieste realistiche. Servono altri 10 miliardi, priorità a famiglie, imprese, giovani e natalità. Giorgetti segnalerà le misure improduttive. E poi si rischia l'agonia, parliamo di Unione Europea, quindi restiamo in ambito politico, von der Leyen e Berlino, no agli Eurobond. Draghi afferma scossa l'Unione Europea da 800 miliardi, ma sul debito comune tante resistenze. E poi nel taglio superiore c'è spazio anche per lo sport. Sinner, dopo il trionfo, il periodo duro mi ha fatto crescere, grazie Italia. E poi dal tennis al calcio, a Budapest finisce 2-1, gli azzurri volano gli ultradispalle all'inno israeliano. E poi, purtroppo, c'è spazio anche per la cronaca uccisa sulle strisci. I testimoni c'erano due vetture che facevano a gara. A Tivoli una mamma di 39 anni è stata travolta mentre andava al lavoro. Diamo invece adesso uno sguardo al quotidiano libero. Il manifesto dell'ex detenuta, il salvaladri della Salis, furti nei supermercati e altri reati minori depenalizzati. Carceri svuotate e un nuovo piano casa. L'anarchica presenta i suoi folli progetti a giornalisti selezionati che applaudono a scena aperta. E intanto arriva il rapporto dell'ex premier Draghi, 800 miliardi per salvare l'Unione Europea. Basta ideologia o crollerà. Ma la cura non è dare potere e soldi a Bruxelles. E adesso iniziamo invece il nostro giro sui quotidiani sportivi. E partiamo subito dalla Gazzetta dello Sport. Sinner, il discorso del re, il mio anno magico a New York, il trofeo più importante, il doping. Stavo male, non dormivo, ma ora sono di nuovo me stesso. E poi l'Italia fa il bis, battuto anche l'Israele 2 a 1. Frattesi autore del primo gol e poi raddoppia Ken. La riserva dell'Inter dunque non sbaglia e poi Ken lascia la sua firma. E intanto si parla del ritorno al campionato di Serie A, Inter, Juve e le altre big. Ecco come riparte la corsa. Intanto Leao e Teo perdonati, sabato subito titolari a San Siro contro il Venezia. E adesso invece ci spostiamo sul Corriere dello Sport. Battuto anche Israele 2 a 1, va bene così. Sì, frattesi Ken, adesso l'Italia è prima da sola in vetta. Gli azzurri dominano in Nations League, seconda vittoria di fila, Spalletti afferma splendidi. Intanto la Francia risorge contro il Belgio, vincendo 2 a 0. E poi parliamo di tennis, ma è più senza Sinner, perché il 2024 è il primo anno della nuova era del tennis. E adesso invece in ultimo ci spostiamo sul quotidiano tutto sport. Ancora spazio per il tennis, ci vediamo a Torino. Finale grande obiettivo, Davis Sarò a Bologna, Santo Padre vita dura per Alcarazze e Diokovic. Sinner il giorno dopo il trionfo agli Asopen è ancora più bello. Siamo giunti al termine anche del nostro consueto appuntamento mattutino con la Rassegna Stampa. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi auguro buon proseguimento di visione sui nostri canali. Grazie. 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 Grazie.